Non bisogna esaltarsi per la prima partita, sicuramente abbiamo goduto del fatto che noi eravamo una novità e quindi ci hanno preso un po' non conoscendoci bene e noi dobbiamo puntare in queste prime giornate di fare più punti possibili per poi giocarci le partite che rimangono con più serenità.